metro mercoledì 20 febbraio titolo la durezza al giorno d'oggi quando lo scorso natale da cappellano di rebibbia ho chiesto di regalare panettoni ai carcerati moltissimi l'hanno fatto generosamente ma una persona ha detto per loro niente potevano comportarsi bene e così il panettone se lo sarebbero mangiati a casa con la famiglia queste parole estremamente dure e ingiuste non sempre in carcere ci finiscono solo i colpevoli come non sempre i veri colpevoli finiscono in carcere dette da una persona semplice mi hanno ferito mi hanno fatto pensare perché una persona che conoscevo buona molto diversa in tanti altri casi era diventata così dura riguardo la possibilità di un piccolo gesto d'amore verso qualcuno che anche nel caso peggiore che in carcere perché colpevole stava comunque pagando il debito con la giustizia io attribuisco questa durezza che spesso diventa esigenza rancorosa e un non voler dimenticare amaro alla congiuntura difficile che molti di noi stanno attraversando nelle cose più semplici della vita quotidiana anche perdonarci gli uni gli altri gli errori e le mancanze può sembrare un'impresa impossibile se quest'anno e siamo solo a febbraio è la terza volta che devo cambiare la ruota dell'auto perché le buche della strada tagliano il copertone o mio marito è senza lavoro da un anno che era esattamente quanto accaduto alla signora di prima come ho scoperto qualche giorno dopo